Ciao a tutti ragazzi, siamo nel solito campetto, nella solita zona, siamo arrivati dunque alla finalissima, magari è stata attesa, attesissima direi, è già passata una settimana, non so, però, però, questa volta si arriva a 3, non più a 2, solito campetto, solita orario, sono passati due minuti massimo, in caso se finisce presto, facciamo due tiri, dopo si avanza batteria, sempre, e magari ve la metto a fine video, non lo so, intanto iniziamo, si rinca comunque il peggiore, bella per il nostro Gigi, e vi lascio a tutti. Oh ho ho, mamma mia, pazzesca, piena di emozioni questa finale, mi perde parati, eh, ma a prestito, a presto, a presto, a presto, a presto, a presto, due tiri, due tiri. Mamma mia, ah ah, è secondo? Amma mia, ah no, no, no! Non è vero, non è vero, non è vero. iscrivetevi al video, vi ringrazio e vi saluto bello comunque ringrazio tutti per la visione e anche di questa sconfitta però d'altronde deve smagare da bere e non mi chiamo Gigi niente ci vediamo al prossimo episodio così ne fa un altro prezzo grazie adesso facciamo due tiri e magari ve li metto a fine video come detto prima adesso aspetta un attimo e basta potete vi restare video bene ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti